8 sconosciuti Oggi scriveremo la storia 8 punti di vista Hanno sparato al presidente degli Stati Uniti Ognuno con un tassello del puzzle Hai visto il kill? Ma ho visto qualcosa Ho visto qualcosa in kill Dobbiamo rispondere Non può dare l'ordine, non adesso Se pensate di aver già visto tutto C'è qualcos'altro Guardate di nuovo Vai, vai, vai! Prospettive di un delitto Torni indietro Oh mio Dio Che cosa ha visto? Dal 29 febbraio al cinema Oh mio Dio